At the close of a gospel service, an intelligent looking man came to the minister and said, I do not see any necessity for the blood of Christ in my salvation. I can be saved without his shed blood. Alla fine di una predica, un uomo dall'aspetto intelligente andò dal ministro e gli disse, Io non vedo alcuna necessità del sangue di Cristo per la mia salvezza. Io posso essere salvato senza il suo sangue versato. Very well, said the minister. How do you then propose to be saved? Ebbene, disse il ministro, e come ti proponi di salvarti? By following the example of Christ was the answer. That is enough for any man. E seguendo l'esempio di Cristo fu la risposta. Questo è abbastanza per qualsiasi uomo. I suppose it is, said the minister. And you plan to just follow his example and nothing else? Il ministro disse, suppongo di sì. E pensi di seguire il suo esempio e niente altro? I do, and I am sure that it is enough. Niente altro, e sono sicuro che è abbastanza. Very well, I am sure that you want to begin right. The word of God tells us how to do that. I read here concerning Christ, who did no sin, neither was guile found in his mouth. I suppose that you can say that about yourself too. First Peter 2, 22 Allora il ministro disse, bene, sono sicuro che vuoi iniziare sul piede giusto. La parola di Dio ci dice come farlo. Ho letto qui riguardo a Cristo, in primo Pietro 2, 22, egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Mi immagino che puoi dire questo anche di te stesso? L'uomo divenne visibilmente imbarazzato e disse, non esattamente, non posso dire questo di me stesso. A volte io pecco. In that case, you do not need just an example, but a savior. And the only way he saved you is by shedding his blood for you. In tal caso, disse il ministro, non hai bisogno solo di un esempio da seguire, ma di un salvatore che ti salvi. E il modo in cui lui ti salva è che ha versato il suo sangue per te. Alleluia. Amen. Gloria. Grazie, grazie, Signore.